L'arco è l'amico di Euro dell'Uomo Ma bene, è bello fare queste cose così E dopo questo? No ma io sono proprio di section Ma siamo anche magari Dopo di questo Dopo di questo non andiamo a pagare Pagiamo noi, paghiamoci Dopo questo io pagherei io voi per essere portati Dopo di questo È Believe 2 Euro Fini Minchia te siamo bravi È Believe 2 Euro Grazie per la visione 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 Grazie per la visione